Buonasera a tutti, quello che oggi si recensisce per letto, riletto, recensito non è un libro, anche se sono apparso con un libro in mano, ma un autore. Nel blog letto, riletto, recensito mensilmente si parlerà di un autore. Vi ricordo che il blog si trova nel sito salvatoremassimofazio.it nella barra del menu c'è scritto letto, riletto, recensito, appoggiate il cursore, si apre la tendina e andate a vedere e leggere tutto quello che volete. Ma vi è anche il canale Instagram, la pagina su Facebook, il gruppo su Facebook, siamo a quelli che letto, riletto, recensito, il profilo Twitter e il canale YouTube dove vedete i messaggi. Ci manteremo sempre tra i 4 e i 6 minuti, potenzialmente anche meno. L'autore, chi è? Giovanni Sollima. Giovanni Sollima non è un contrabassista, un musicista palermitano, noto al mondo, bensì uno scrittore, poeta, principalmente poeta, novelliere, psicomotricista, psichiatra e criminologo. Catanese, tifoso del Catania, questo ci sta pure. Io ebbe a conoscerlo tantissimi anni fa perché ci troviamo a lavorare nella stessa struttura psichiatrica. Lui con il ruolo psichiatra, io con un altro ruolo ovviamente, quello di animatore, socio-psichiatra, era l'inizio della mia carriera tantissimi anni fa. Giovanni Sollima ha pubblicato con diverse case editrici, partendo dal suo primo livello di pezzi tesotici, secondo, 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 terzo livello di pezzi tesotici, tutti editi pubblicati per i tipi di AS. Casa editrice siciliana, molto classica, semplice. In questo vi sono anche le illustrazioni di Filippo Fasanaro, uno dei più quotati grafici, che ha lavorato anche con grosse aziende vinicole. Per poi passare, Giovanni poi è passato a Esiallupsie, che è praticamente il regalo del suo matrimonio, venuti all'evento, agli invitati. E poi Giovanni Sollima viene contattato perché pian pianino, come poeta, negli ambienti della poesia si fa conoscere dalla Elicon, che è l'Elicon Edizioni di Arezzo, che gli fa un ottimo contratto, a quanto ne sappia io, mai che non me lo ha detto lui, attenzione. Con Elicon, Giovanni pubblica il quarto livello di pezzi tesotici. Ma torna poi all'origine con la QCM, una tra le più importanti case catanesi, 50 anni di storia, con Sulle ali della Paidea, che sono tre saggi e anche un libro tecnico, e le novelle, la taverna di Alfa Linninino, forse il libro più famoso di Giovanni, sempre da me, ma Giovanni non finisce lì. La Elicon, come che lo mette sotto contratto? Perché attraverso dei concorsi, partecipazione e premio, altre cose, sviluppa due antologie importanti, rabbirinto catortico e percorsi di scrittura, dove è inserito Giovanni Solli, meravigliosi. Giovanni, personaggio sui Genesi, straordinario, meraviglioso, specialista e medico, amato, amato, se non addirittura venerato, questa venerazione che lui però rigetta dai suoi colleghi e dai suoi utenti. Straordinario nella sua poesia. Io oggi non voglio leggere un racconto della taverna di Alfa Linninino, che è dedicato, non vi dico a chi, se no non lo comprate, non lo leggete. Bensì voglio andare alle origini di Giovanni, prendo questo terzo libello di pezzi tesorici, leggendo una delle migliori poesie che io ad oggi ho letto, ho letto e introiettato e che mi hanno mosso dentro. Fugace uscita. Fugace uscita sul balcone e poi sparire dall'esterno, a casa di un dì. Dagli smerli di un avanzato tramonto puntasi in fuorilembo di una giornata che ha guadagnato caldo. Qualcuno ascolta la radio, tratto in musica contorno, contorna, intima dispersione, in scotomizzante aura dell'oggi. Ecco, sembrerebbe quasi un miscelare, raccontare e integrare ciò che è la climaticità che dannatamente accompagna noi catanesi quasi tutto l'anno e trovare la frescura nelle parole e in dei sostantivi che non sempre sono all'ordine del giorno. Giovanni Soldima, qualunque cosa vi trovate sotto mano? È un consiglio diretto che do. Può diventare lettura estiva, impegnata, importante, di svago, di riflessione. Giovanni Soldima merita di essere nella vostra libreria. Ciao e alla prossima da Letto di Letto Ricensito, anzi da Salvatore Massimo Fazio di Letto di Letto Ricensito. Ciao.